ciao a tutti ragazzi buonasera e bentornati su un nuovo video tempo fa ho fatto un video su come facevo vedere come aprire un cofano bloccato dall'interno ossia come sganciare un gancetto che c'è all'interno della serratura e far scattare la serratura l'ho fatto perché nelle nuove auto cioè nelle nuove in quelle che escono da una decina d'anni a questa parte le serrature che troviamo sono principalmente nel lato guida quindi tutte le altre serrature sono senza serratura per inserire la chiave hanno solo una serratura che si apre con la centralizzata quindi se si dovesse guastare per esempio come l'esempio che ho fatto quella del del cofano posteriore rimanete fregati perché non potete inserire la chiave per aprirla se si guasta il tasto siete fregati quindi se dovete magari avete la spesa dentro piuttosto che il cane piuttosto che un cadavere che dovete scaricare da qualche parte e dovete aprirlo dovete per forza entrare dentro il veicolo ribaltare i sedili e andare a fare una piccola leva in un tasto che c'è in una serratura che serve per aprirla in caso d'emergenza il video precedente che avevo fatto non ho fatto vedere l'interno dell'auto come si faceva ve lo faccio vedere adesso questa è una nissan micro k14 anche questa macchina non ha la serratura per aprire posteriore con la chiave ha solo una serratura elettromeccanica quindi adesso ribalterò i sedili leverò la capelliera che ho già levato e vi farò vedere ma proprio in un secondo come arrivare al tasto per aprire la serratura fare leve aprirlo anche solo con un dito generalmente alcune macchine hanno bisogno di un piccolo cacciavitino però per esempio in questa micra c'è un piccolo dentino che si apre con anche con il dito adesso vi faccio vedere eccoci qua ragazzi ho preso una torcia per fare un po di luce adesso sono dentro il cofano dell'auto prenderò questo piccolo cacciavite solo come esempio perché ripeto in questo veicolo si può aprire anche solo con la forza del dito ragazzi questa è la serratura vista dall'interno dell'auto io ho ribaltato i sedili ho levato la capelliera e vedete che la serratura è chiusa perché il gancio è chiuso però cosa notate qua vedete questo dentino questo è il dente di sblocco d'emergenza per esempio potrei fare leva con il dito perché è semplicissimo però se io vado a fare questo giochetto vedete ho sbloccato la serratura e ho aperto il cofano è veramente molto molto semplice naturalmente se la vostra serratura non funziona io non so ma le serrature si guastano quindi molte volte si rompono i tasti per questa per esempio a un tastino qua si rompe questo tasto è finita io non lo apro più il cofano se non da dentro quindi queste serrature si rompono si rovinano nel momento in cui non funziona più vi ricordo che magari riuscite a raperlo però dovete andare a cambiare la serratura come al solito se questo video vi è piaciuto cliccate un mi piace iscrivetevi al mio canale perché caricherò sempre nuovi video per adesso è tutto alla prossima ciao